Non è ancora finita Daci Sant'Antonio, perché nonostante il Comune abbia effettuato tre mandati di pagamento alla Geoambiente, uno da 80.000 euro e due da 50 per un totale di 180.000 euro, i dipendenti non hanno ancora ricevuto gli stipendi arretrati. Per questo motivo hanno deciso di concludere sì l'occupazione dell'Aula Consiliare, alle 3 del pomeriggio di ieri, ma non lo stato di agitazione e le iniziative di protesta. Dirottare i soldi dalle casse della Geoambiente e conti correnti dei lavoratori sarà compito del commissario Aiello, che si è insediato in questi giorni per gestire la situazione di crisi che vive l'azienda. La Geoambiente, che nel Comune di Aci Sant'Antonio, come in altri comuni della provincia di Catania, ha in appalto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Quindi, soltanto quando arriveranno i nostri stipendi, sospenderemo le proteste, dicono i lavoratori motivati ad andare avanti. Ma intanto la conseguenza del rallentamento dell'attività dei netturbini, che tra l'altro ormai da mesi hanno sospeso il lavoro straordinario, ha ricadute pesanti sulla città, e non soltanto per il decoro, ma anche in termini di salute pubblica. Il sindaco Santo Caruso ha disposto un'ordinanza per motivi igienico-sanitari e di incolumità pubblica, con la quale ordina la ditta Geoambiente di provvedere con urgenza allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, che si sono accumulati lungo le strade. La situazione è più grave nelle zone servite dai cassonetti, dove si registra un accumulo smisurato, che rappresenta addirittura un potenziale pericolo per la circolazione veicolare, in quanto i rifiuti invadono la strada e restringono la carreggiata. Pare che la ditta abbia già inviato alcuni mezzi per potenziare il servizio e ripristinare la situazione nel giro di 48 ore.